Ora adesso lascia andare così Sì, forse se vuoi proprio lui appena appena più basso può anche starci Sai cos'è? Che lo prendi proprio di schiena comunque Non ho altra soluzione però perché entro nel palco e non voglio farlo Grazie 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 un tagliettino dai allora più o meno il 33 mi sembra un po' presto piccoletta sta cassa si ma perché era proprio la cassa piccola lui vuole fare le batterie cartonate quella gira tenendola più su questa anche se ci sono i rientri dell'altra non ti accorgi bella idea così no no qui va bene che bello che è qui è bello che piede che cosa che è eh bisogna stare attenti si questo mi piace si mi piace così in livello che c'è piano forte forte il basso forte e la voce è aspetta prima però devo togliere rientri su blues perché il sax non suona magari se mi fai sentire soltanto la prima parte dall'introduzione grazie a tutti grazie a tutti